Ciao a tutti e benvenuti su TechGaming. In questo video vi spiegherò come sospendere gli aggiornamenti di Windows 10. Purtroppo non per sempre, cioè dico purtroppo, in teoria e in pratica uno non dovrebbe sospendere gli aggiornamenti perché sono importanti. Però, considerando che ultimamente ogni aggiornamento porta problemi al sistema operativo, sospenderli non è poi una cattiva idea. Come dicevo purtroppo non è possibile farlo per sempre con questo tutorial, con questo metodo, ma potete prolungare la cosa. Quindi, quando si tratta di aggiornamenti obbligatori, non opzionali, perché con gli opzionali se non li approvate non vengono scaricate e installati. Però quando si tratta di aggiornamenti obbligatori c'è una procedura da fare. Andate su Start, Impostazioni, Windows Update, qui, Opzioni avanzate, e qui, Sospendi fino a... E decidete una data, che naturalmente si prolunga ogni giorno che passa. Quindi, io posso decidere di sospendere gli aggiornamenti fino al 27 giugno. In questo modo, non vengono né scaricati né installati. Questa procedura, diciamo, è una soluzione temporanea. Ad esempio, se Microsoft ha rilasciato un aggiornamento che crea problemi e non volete scaricarlo o installarlo, potete fare così in modo da rimandare la cosa, fino a quando Microsoft magari non rilascia un nuovo aggiornamento che risolve appunto il problema. Se poi avete scaricato l'aggiornamento e lo avete installato, come vi ho mostrato in un altro tutorial, c'è sempre la possibilità di disinstallarli. Se questo video vi è servito, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.